Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 Sempre in compagnia di Kirito che vi saluta calorosamente E guardate un po' qua che cosa ho Che bello questo nuovo mezzo di trasporto E' il bastone di Tai Pai o Tao Pai Pai per chi segue il manga Che ho riscattato ieri sera il codice di preorder ottenuto dal gioco Quindi adesso facciamo una bella cosina e andiamo avanti con la nostra Andiamo avanti con la nostra bella storia Ok vecchio Caio Andiamo avanti c'è molto da fare ma non so se tu sia all'altezza del compito Ehi Vai alla pattuglia temporale Va bene allora andiamo Eccomi mi avete chiamato E' ora di mettersi al lavoro Ma dai C'è stata un'altra deviazione temporale nella storia Uh fantastico Freezer l'imperatore galattico Towa doveva allearsi proprio con lui E beh a quanto pare Con Tarlas e Slug ancora a briglia sciolta Siamo proprio nei guai seri Eh ma no In più Trunks è ancora sulle tracce di Mira Mette un radar cerca Mira Cioè non lo so E lamenti Non avranno molto stile Ma Trunks e il suo braccio destro Sanno come portare a termine una missione In che senso non hanno molto stile Ehi Senza di loro Mira rivolgerà l'attenzione su di te Ma dai Non l'avevo mai pensato Ma tu non perdere la concentrazione Freezer è un avversario pericoloso Oh mamma mia che paura Un avversario incredibile pericoloso Mia un avversario incredibilmente pericoloso Ascolta hai ancora poca esperienza A non fare mossa avventate E cerca di non farti ammassare Ehehehe Con chi credi di parlare nonno Eh se sei preoccupato Potresti semplicemente dirlo C'ha ragione Oh stai zitta Ti auguro buona fortuna Eh mi ne servirà parecchio allora Guadagnare tempo La lotta di Nail Era 762 E anche senza presentarci Che lui ha già capito Che lo aiutiamo Va bene Nail Aia Zero A te la mossa del primo colpo Bam E mi son potenziato un bello boom Prendi questo Big bang attack Oh l'ha schivato Sono queste malestivi eh Freezer Ma io E mi son potenziato un bello Boom Ah Freezer Col pitonail per sbaglio Mamma mia ma quanto parlano ci fuoco Olè Olè Maledetto Ciao Già così abbiamo poco tempo Perché hai richiamato qui il nostro agente Ok ci siamo Ora mettiamoci al lavoro Cioè mi fai tornare e poi mi dai un'altra pergamena Eh Ragiona È semplice Dobbiamo solo tornare un po' più indietro nel tempo Giusto Questo è vero Perché è possibile Non è come imbrogliare Smettila di blaterale Avvanvera vecchio Difendere la storia è nostro compito Solenne A qualunque costo Allora buona fortuna Aspettiamo qui il tuo ritorno A me mi scaricate sempre il barile A me mi scaricate sempre il barile eh Go Krillie Le sette sfere del drago Le sette sfere del drago Tanto la formula non la sa Tarles Eccoci qua Ho aspettato a lungo questo momento Molto presto le sfere del drago mi garantiranno l'immortalità Se mangio abbastanza frutti dell'albero della vita Nemmeno freezer e mira saranno in grado di fermarmi Ma dai Non credo Eliminerò per sempre Kakarot E l'intero universo si prospererà ai miei piedi Le sfere del drago appartengono a me Tarles Allora abbiamo lo stesso obiettivo L'universo sarà sotto il mio dominio E non c'è posto per te Sì Sì Stanno Ambizioni maligne Tarles e Slug Che cosa prendono con Gohan? E va bene E va bene io mi occupo dell'altro Vabbè Vabbè E Non vale Tu c'è il braccio che sta a lunga Dai Gohan Penso a A Tarles Che io penso al Nameciano super cattivo qua E guardate gli occhi ragazzi Fa cattivissimo Fa cattivissimo No ma come ha fatto? Oh col Big Bang non riesco mai a pigliarli eh Cosa che mi stanno versicuro che ci rendevo sempre col Big Bang Attack Aia La cosa brutta di Nameciani è che hanno il braccio di Ravdor allungabile To, 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 to e to Tarles No perchè mi segna lui? Porco cane Tor Oh Slug Che hai avete tolto nuovo ragazzi Oh, cavolo Se non ne fosse passato per lo stamina Break, aia Boom, preso stavolta Ah, muatete un due contro uno, eh Aiutarle, che cazzo di attacco era Vai, mamma mia, oh, no E addio allo scimmione E addio anche al super E mo' che cacchio fanno? L'esperimento ha avuto successo Ecco Towa e mira Che cacchio E la madossa, si son curati Ma due contro uno in questo stato Bomba, bitch Salcione in faccia per darle No Ecco tra... Ah, meno male Due contro due, belli Boom Ecco sono pari Bomba Quante poste Bababam Vedo parla il tuo figlio Il brutto da tutti Prendi questa brutta coppia Oh Di Goku Ha riuscito Boom Bomba Non è proprio Una coppia di Goku Diciamo che è un Un Saiyan Ideato da Akira Toriyama Per far si che ci fosse Dovrebbe essere praticamente La versione di Goku Nel caso Si non avessi avuto la botta Questo è quello che crede Per come immagino La motivazione Della creazione di Tarlo Per me Personale Perché non è proprio Canonico Tarlo Boom Come non è Calamico Slag Stacco di Bang Ah Stavo stato preso Guardate qua Raggio di Lu Che figo Però va dall'altra parte Non so perché Ehi E altati Sì ma Trunks Non fa niente Stai lì a guardare Che fa La bella vita lui Hai capito Sì e dire giù Lui non mi aiuta Lui non è giù Cattivone Di un amiciano Drogato Boom Quattro calcioni In giugno Se parte la combo Ha Neanche la nostra Guarda Si Si Molto bene ragazzi Io direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io come sempre Vi invito A lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao belli 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 Grazie.